Nome? Cyril Soprannome? Cirillo A scuola come andavi? Bene Una parola per descrivere Cyril in campo? Istintivo Una parola per descrivere Cyril fuori dal campo? Casalingo Un giocatore a cui ti ispiravi da ragazzo? Eh, Ronaldo Un giocatore a cui ti senti di assomigliare? Neymar Il difensore più tosto che hai affrontato in Italia? Eh... Colasinac Piatto preferito della cucina italiana? Pasta al tartufo Parola preferita in italiano? Non la posso dire, però... Un'altra è... Quindi Destinazione dei sogni per una vacanza? Repubblica Dominicana Un pregio e un difetto? Pregio... I'm social E difetto... Troppo energia Se fossi un animale saresti... Pantera nera Meglio gol in rovesciata o di scorpione? Uh... È rovesciato La maglia più bella di questa stagione? Quella che ho qua Un saluto agli amici di Gazzetta Ciao a tutti ragazzi in Italia